Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento con le meteo. Aria fresca dei Balcani in movimento verso l'Italia persisterà sino al termine della settimana, portando quindi temperature nettamente più basse rispetto alle medie del periodo. Poi seguirà un nuovo aumento termico, soprattutto dopo ferragosto, seppur per pochi giorni. Per quanto riguarda questo sabato, ancora una giornata instabile, con possibilità di rovesci sparsi, qualche temporale, in particolar modo tra la mattina e il pomeriggio. Le aree più coinvolte, quelle dell'entroterra, però qualche piovasco, qualche tuono potrebbe spingersi sin verso i tratti costieri, specie tra Pescarese e Bastese. Le temperature in ulteriore lieve calo, le massime tra i 23 e i 27 gradi, minime tra 14 e 20 gradi. Sono temperature inferiori alle medie del periodo di almeno 2, anche 3 gradi. La ventilazione si disporrà ovunque dai quadranti settentrionali. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.